Allora, gli aerei americani non sono partiti. Si preannunciavano bombardamenti sulla Siria sin dalla settimana scorsa, ma gli aerei sono rimasti fermi nelle loro basi o sulle portaerei dislocate nel Mediterraneo. Obama ancora non se l'è sentita di prendere una decisione così grave da solo. Dopo il no dell'Italia e della Germania, dopo il no della Gran Bretagna ed in attesa delle decisioni dell'ONU è rimasto da solo con la Francia a sostenere la necessità di bombardare la Siria come sanzione internazionale per l'uso dei gas nella guerra di religione che sconvolge quel paese. E perciò ha rimesso la decisione al Congresso, al Parlamento americano, il cui sì non è dato per scontato. Il mondo aspetta con il fiato sospeso, ma la cosa peggiore adesso è proprio quella di starsene così, in attesa, senza far niente. Ieri ha cercato di smuovere le acque sul conflitto siriano Papa Francesco, che come capo della Chiesa cristiana rappresenta in Siria una piccola minoranza. Il Papa ha dato una mano ad Assad, in pratica, dicendo no all'attacco alla Siria ed augurandosi iniziative di pace. Va bene anche questo, purché però davvero si faccia qualcosa. La guerra siriana va avanti da più di due anni e da allora le vittime hanno superato le centomila unità. Quanto altro si deve aspettare ancora? Quant'altra gente dovrà ancora morire? Ora non si massacri più di quanto già non lo sia quella terra né con le bombe né con altro. Però l'ONU e le altre potenze mondiali, dagli Stati Uniti alla Russia alla Cina, avvertano il dovere di fare qualcosa per fermare i combattimenti, anziché continuare a rifornire le fazioni con le loro armi. Qui c'è un'America che vuole bombardare, una Russia che dice no e pone il veto in sede ONU. Ora la decisione di bombardare è grave quanto lo è il veto posto dalla Russia in sede ONU. Tutte e due queste posizioni infatti producono vittime ed è questo ciò che si deve evitare. Purtroppo quello che i grandi evidentemente non sono in grado di fare.